Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi cari amici miei e ben ritrovati con un nuovo video. In questo video farò le pagelle di Inter-Torino come avevo promesso ieri. Inter-Torino ragazzi è un pareggio che ti lascia un po' la mare in bocca perché ho la sensazione comunque che l'Inter non abbia fatto nemmeno una brutta partita complessivamente. Anzi, se andiamo a leggere lo score dei tiri, abbiamo dominato ragazzi, abbiamo fatto tantissimi tiri, siamo stati poco cattivi secondo me sotto porta, complice anche un Sirigu che è stato ieri in giornata di grazia, tantissime parate, anche un po' la sfiga perché la traversa di Vesino grida vendetta, ma meno male che per tutta Italia siamo l'Inter culona che ha il secondo posto solo per merito del lato B. Poi mi leggo lo score dei legni colpiti e siamo la squadra, la seconda squadra che ha colpito più legni in tutta la Serie A. Ma comunque ragazzi, parliamo delle pagelle. Andanovic voto sì, per me partita da normale amministrazione di Samir, ha fatto una sola parata molto importante nel primo tempo su un colpo di testa di Baselli, sul gol di Iago Falca ragazzi non ha assolutamente nessuna colpa perché Iago Falca arriva come un treno a tirare, ha calciato fortissimo perché non c'è stata ostruzione da parte di nessuno, le colpe sono di un altro giocatore, lo scoprirete in queste pagelle, voto 6 quindi per Samir Andanovic. D'Ambrosio voto 5,5, è vero si impegna tanto, continua ad impegnarsi sempre, onora la maglia, ma non basta, comunque non è bastato ieri perché ha fatto tantissimi errori in fase di possesso palla, tant'è vero che ha fatto spazientire tantissime volte Spalletti e l'asse diciamo con Candreva, non è funzionato bene come è funzionato in altre partite, quindi comunque prestazione complessivamente non sufficiente di D'Ambrosio, voto 5,5. Skriniar voto 6,5, per me in assoluto il migliore della difesa, ma non solo in questa partita ma in tutta la stagione, un acquisto pazzesco ragazzi Skriniar, è un leader ragazzi, è un leader, l'ho visto spallare via Belotti con una facilità disarmante, lo vedo vincere duelli, contrasti, essere il leader della retroguardia ragazzi, come dovrebbe essere il suo compagno di reparto, invece lui se lo sta portando a scuola a Miranda, è fortissimo questo ragazzo, è andato vicino anche al gol nel primo tempo con un colpo di testa, con un'ottima parata di Sirigu, eh ragazzi, il solito Skriniar, un muro sia senza palla, con la palla tra i piedi invece, è il giocatore che dà in là la manovra, quindi un giocatore fondamentale per questa squadra, in questo momento secondo me è il miglior difensore della Serie A, e non lo dico perché sono interista, voto 6,5, Skriniar, uno dei migliori in campo, per me voto meritatissimo. Miranda, e qui inizia ad incazzarmi, voto 4,5, cosa cazzo ti sta succedendo Joao? Cosa ti sta succedendo? Io dal capitano del Brasile, da un giocatore che è ben oltre i 30 anni, un giocatore esperto come te, non posso accettare un errore del genere come in occasione del gol di Iago Falchi, tutto il mondo sa che Iago è un mancino di piede, tu gli hai steso il tappeto rosso a Iago Falchi, gli hai dato tantissimo spazio e l'hai fatto anche calciare, non hai messo manco il piede là. Per il resto, tolto questo che è comunque un errore decisivo perché ci ha fatto prendere gol, è stato comunque imbarazzante col pallone tra i piedi, tantissimi errori, ti dà sempre la sensazione che è quello che può cappellare da un momento all'altro. Il peggiore in campo, secondo me, Joao, svegliati, 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 voto 4,5, secondo me. Nagatomo, voto 5,5, per me vale un po' lo stesso discorso che ho fatto a D'Ambrosio, si impegna, per carità, ma non è stato il Nagatomo che si è visto nelle ultime partite, dove era letteralmente scatenato e ha dato anche un apporto fondamentale in fase offensiva. Ieri, insomma, non ha fatto tutto questo, è stato, si è impegnato, si è impegnato, ragazzi, il gol viene comunque anche dalla sua zona di campo, anche se le colpe, come vi ho detto, non sono affatto sue. Dal punto di vista del possesso palla, però, troppi, troppi errori, passaggi, appoggi sbagliati, quindi voto 5,5. Dal 31esimo del secondo tempo ha preso il suo posto Brozovic, a Brozovic do senza voto, non voglio dare il voto a Brozovic per pietà, perché Brozovic per il quarto d'ora che ho visto ieri, ragazzi, è un giocatore da prendere a sberle finché non lo vedi svenire in mezzo al campo, perché tu non puoi giocare un quarto d'ora con questa maglietta addosso ed entrare in campo in pantofole, ha sparato palloni proprio alla che me ne frega a destra e a sinistra senza un briciolo di cervello. Ieri l'avrei preso a sberle, proprio è stato fastidioso il classico Brozovic senza voto, ma per pietà, solo per questo, altrimenti gli avrei dato zero. Vecino voto 7, il migliore, ragazzi, in campo secondo me, il migliore del centrocampo, l'unico giocatore a centrocampo che ha vinto tutti i due all'individuale in contrasto, col pallone e senza palla, è stato fondamentale ieri, ma è un acquisto fondamentale per me in tutto questo scorcio di stagione, è andato vicinissimo al gol, sia con la traversa, meritava buona sorte quel tiro da 30 metri, bellissimo, e sia con un inserimento, un colpo di testa, dove Sirigo è stato miracoloso. Per il resto ha fatto la solita partita di quantità e qualità, quindi migliore in campo, Vecino voto 7. Stessa cosa non posso dire di Gagliardini, voto 5,5, Gagliardini ha perso tantissimi duelli in mezzo al campo, ha riconquistato anche diversi palloni ragazzi, ma se me ne perde il doppio, poi a cosa serve? A nulla, quindi sommando, cercando di fare il bilancio delle due cose, la prestazione resta insufficiente di Gagliardini, il solito Gagliardini che gioca ad una velocità troppo, troppo bassa, troppo bassa, troppi errori in fase di possesso palla, voto 5,5, al suo posto, dal 24esimo, entrata Eder, voto 6,5, è stato decisivo Eder perché ha pareggiato la partita, anche se quel gol lì era abbastanza facile da fare, i meriti sono di Gagliardini in quell'azione, con quella sponda molto bella, però ha dato più verbo alla manovra offensiva, ha dato una marcia in più, questo cambio a Spalletti devi avere il coraggio di farlo qualche minuto prima, per avere più tempo e poi per vincere la gara, perché se lo fai quando mancano 20 minuti, un quarto d'ora, purtroppo non sempre riesci a rincorrere a fare la rimonta. Comunque Eder è stato assolutamente uno dei migliori in campo, è entrato bene in partita, voto 6,5. Candreva voto 6, uno dei migliori per me, anzi uno dei meno peggio, diciamo così, dal nostro reparto offensivo, perché comunque si è impegnato, nel primo tempo ha sfornato anche degli assist molto interessanti a Di Cardi, che ha ciccato malamente il pallone, si è impegnato molto, ha corso tanto, non è stato il Candreva versione derby, versione le ultime partite, dove è stato assolutamente per me uno dei migliori in campo, comunque prestazione tutto sommato sufficiente di Candreva, per me comunque poteva azzardare, cara Mo, ma di spalletti ragazzi parleremo. Borcavalero voto 5, ha sofferto in una maniera pazzesca la marcatura stretta di Acqua, la fisicità del Torino sulla tre quarti è stato completamente disintegrato, Borcavalero infatti non è un caso che non è girato lui e non è girata manco l'Inter. Qualche metro più indietro poi nel secondo tempo, quando dovevamo recuperare la partita con l'ingresso di Eder, Borcavalero è stato arretrato e insomma ha giocato molti più palloni ed è entrato molto più nel vivo del gioco, comunque prestazione tutto sommato insufficiente di Borcavalero, voto 5. Perisic voto 5,5. Caro Ivan, io ti adoro perché per me sei il giocatore più forte di potenzialità dell'Inter. Ti avvicini comunque ai 30 anni, sei in una fase della carriera che devi dimostrare di essere un campione. ieri ci hai messo comunque lo zampini in occasione del gol con quel cross, bello, però non puoi giocare ogni partita a 20-30 minuti, non puoi, io da un giocatore del tuo calibro mi aspetto molto molto di più per tutta la partita, ieri non ti sei manco impegnato più di tanto come nelle scorse partite dove ti ho visto fare una corsa sempre in più ad aiutare la squadra a tenerla corta, ieri non hai fatto manco questo lavoro oscuro così tanto, voto 5,5. a Perisic, Ivan, svegliati pure tu perché sei fondamentale per questa squadra, devi dare qualcosa di più per tutti e 90 minuti. Icardi, stesso voto di Perisic, voto 5,5. Per me nel primo tempo è stato assolutamente il peggiore dell'Inter perché ha sprecato troppi, troppi palloni, ragazzi, ci ha battato malamente da un attaccante d'area di rigore come lui mi aspetto che uno di quei tre palloni nel primo tempo lo butta dentro. Invece non è stato così, questo pesa nel suo giudizio finale. Nel secondo tempo si è sbattuto un po' di più ed è stato decisivo in occasione dell'assist di Eder. Per fortuna ha fatto quell'assist per fortuna nostra che abbiamo pareggiato ma anche dalla sua prestazione perché secondo me sarebbe stata ancora inferiore al 5,5. Ha fatto con un bellissimo assist. Si poteva fare ingolosire in quella zona di campo. È stato molto bravo a fare la sfonda di Eder e regalare palla comoda comoda per il gol dell'1-1 quindi voto 5,5. Adesso andiamo a Spalletti Spalletti voto 5,5 anche per lui caro mister io ti adoro sei responsabile maggiore delle fortune dell'Inter di questo inizio di stagione i meriti sono tutti tuoi perché sei un grande sei l'allenatore migliore che è passato da queste parti dal post Murigno ad oggi sei il migliore secondo me però i cambi mister te li puoi giocare meglio potevi osare di più potevi farlo molto prima questo cambio di Eder potevi cambiare qualcosa in più abbiamo visto Caramò molto bene contro il Genoa tu per carità li vedi in settimana però per cambiare qualcosa per dare una scossa in più alla squadra ogni tanto ci devi mettere qualcosa in più mister del tuo qualche cambio fatto qualche minuto prima secondo me in questa partita era decisamente meglio cari amici miei fatemi sapere nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate dei miei voti delle mie valutazioni un saluto a tutti amici sempre amala ci sentiamo per prossimi video in questi giorni ciao ragazzi